Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella terza parte del campanile Super Mano Maker. Oggi faremo i più livelli del mondo 2, quindi partiamo subito alla padaria dei cupistrici. Cominciamo. Vedi qua del corso regno li ho fatti tutti gli omi, li ho fatti molti e molti aggettivari come per farli, preso allo. Stavo morendo, ma se no, è il maestro di Mario. Stavo morendo che poi non possiamo aprire i blocchi. Aia, i pisti salati. Aspetta un po' che fa. Ok. Aspetta un po' che fa. Aspetta un po' che fa. Ok. Possiamo venire qua. Accompatiamo il primo livello del mondo 1. Perfetto. Ora passiamo al secondo. È leggermente più difficile. Le colline del mega goomba. Giochiamo. Qua alla fine c'è un piccolo mini boss. Ok. Qua la volta ci saranno molte goomba. Qua la volta ci saranno molte goomba. perfetto il gomma è un prigionale ok per me ho fatto tutto lontanesco scusate per i rumori fuori ma ho proprio avanti a una strada io ho avuto avanti a una strada perfetto ecco qua è una lunga un box super facile e lo buttiamo quindi ragazzi nella prossima parte esploriamoci i prossimi livelli per completare il secondo mondo e sono il primo cupo a bombardieri il secondo castello clump dove c'è boss bowser quindi niente ragazzi spero che il video vi sia piaciuto commentate condividete e iscrivetevi al mio canale se l'avete ancora fatto e ditemi anche qual è il vostro preferito tra la patria del cupistrice e le foglie del mega gomba quindi niente ragazzi ci vediamo al mio prossimo video ciao ciao